Si deve pregare sempre con libertà. Oggi devo pregare questo, 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 perché ho promesso questo, 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 dal contrario andrò all'inferno. Quello non è preghiera. La preghiera è libera. Tu preghi quando lo Spirito ti aiuti a pregare. Questo vuol dire pregare da figli, non da schiavi. La preghiera cristiana non è l'uomo che da un capo del telefono parla a Dio all'altro capo. No, è Dio che prega in noi. Preghiamo Dio per mezzo di Dio. Pregare è mettersi dentro di Dio e che Dio entri dentro di noi. Ma non pregare come i papagalli, per favore. Non dire bla 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 bla, no. Signore, ma dillo col cuore. Aiutami, Signore. Ti voglio bene, Signore. E quando pregate il Padre Nostro, pregate Padre. Tu sei il mio Padre. Pregate con il cuore, no con le labre. No con le disfigurare. No con le disfigurare. Grazie a tutti.